Ragazzi, benvenuti su Five Nights at Wario's Below the Dips Demo. Perfetto, new game. E partiamo subito. Ok. Wario e Waluigi. Two brothers' job here to kill you on... One is low and appear in the hall before getting close to your door. Ok, allora. Allora, praticamente, io devo chiudere la porta affinché Wario o Waluigi si stanno avvicinando. Quindi se Wario e Waluigi si avvicinano alla porta, io devo chiuderla per forza. Perfetto, dai, iniziamo. Sono pronto. Abbastanza. Allora. Telecamere. E... Ok, telecamere, vediamo un po' se ci appare Wario o Waluigi. Secondo me dovrebbero apparire... ...o nella camera 16... ...e nella camera 10. È appena apparso Waluigi, devo vedere se appare anche Wario. Wario è lì. Quindi controllo questi tizi. Controllo i tizi. Secondo me sì. Dove è andato? Ti ho fregato, Wario o Waluigi. Oddio. Dove è andato adesso? Oh no! No! Sempre Wario o Waluigi deve uccidermi. Sempre! Io ho appena chiuso la porta perché mi uccide! No, vabbè, raga. Che infarto! Il primo jumpscore di questo video. Un primo spavento mi sono meritato. Che infarto! Mi sta battendo pure il cuore. Vabbè, ci riprovo. Questa è l'ultima volta che ci riprovo, spero. Spero di cavarmela bene. Wario o Waluigi! Non uccidermi, per favore! Allora, devo vedere bene. After one is aggressive and directly comes in front of your door, you can get rid of one with the door closed. However, the other one isn't affected by the door. You should try to use the light to... Ah! Ah, la luce! Ah, ok, ma non so per chi devo usarlo. Forse è per Wario o Waluigi la luce. Forse è per Wario o Waluigi. Per forza che avevo la porta chiusa ed mi ha attaccato. Forse è per Wario o Waluigi. Mi avevo ucciso a mezzanotte, ma vabbè. Venite qua! Maledetti! Wario o Waluigi, eccoti qui. Allora, Wario o Waluigi. Risa dei conti, eh. Spero di fregarti stavolta. Wario è apparso. Ok, Waluigi si è mosso. Ora devo controllare i due tizi. Ok. Oh! Wario o Waluigi si è mosso. Ho capito! Ok, adesso c'è Wario. Dov'è? Wario? Vabbè, io lo tengo. Wario è lì? Oh! È lì. Ma puoi andartene, Wario? Niente, non se ne va. Niente, non ci riesco con Waluigi. Però prima ce l'ho fatta, ma adesso no. Invece no. Cioè, è proprio... Waluigi è proprio furbo, eh. Vabbè, non ce l'ho fatta, però comunque avevo capito il meccanismo, come funziona per Waluigi. Va bene, ragazzi. Diciamo che io non ce la faccio, continuo a morire da Waluigi. Niente da fare, però ho capito come... Ho capito il meccanismo, però. Ma solo che poi muoio alla fine. Sono morto a lunedì notte, proprio inizio... Non ci posso credere, raga. Comunque, dai. Questa è la Financial Warriors Below the Deep... The Deep... E niente. Questo video si conclude qua. Al prossimo video.